weh incompetente mi raccomando prima di ascoltarti il video commenta perché si usa così su questa piattaforma prima di ascoltare il video si commenta sì perché in questo canale abbiamo a che fare con dei messiani allora io però inizio un altro discorso la inizio così ma certi esperti su questa piattaforma dicevano che la lazio sia l'eterna incompiuta la lazio a me risulta essere una squadra storicamente di coppa la lazio è sempre stata una squadra di coppa non a caso vinse l'ultima coppa delle coppe nel 99 e anche in coppa italia ha fatto sempre delle belle figure ha vinto il derby in finale quando ci fu lazio roma finale di coppa italia insomma la lazio è sempre stata una bella squadra di coppa poi sempre secondo altri competenti immobile bisogna ringraziare immobile se si vince la lazio 10 anni fa già dicevo la lazio ha un bel gioco offensivo a tanti giocatori interessanti fa un gioco offensivo molto corale e perciò riesce ad esaltare i propri attaccanti quindi immobile oggi non ha fatto granché ma la lazio porta questa coppa a casa complimenti poi un'altra terza cosa so che già scriverai commenti tu non ascolti però ascolta se casomai ascolterai tutto il video ragionerai terza cosa stavo per dire il discorso che feci anni fa che fa parte di una competenza calcistica il discorso dell'affrontare la squadra al momento giusto la lazio in questo periodo si trova in un momento d'oro quindi bisogna fare solo complimenti alla lazio che sta facendo molto bene e che si trova nel periodo top non so se durerà tutta la stagione quindi era difficile affrontare la lazio in questo periodo e vanno fatti i complimenti alla lazio quarta cosa in zaghi sempre secondo questi competenti della lazio incompiuta del grande immobile in zaghi era una pippa intanto in zaghi riesce a battere la juve due volte nell'arco di pochissimo tempo un'altra teoria che si conferma pure che l'europa league non vale un cazzo che tutti la snobbano stranamente la lazio nel periodo d'oro perché si trova adesso in un periodo d'oro è uscita fuori in europa league che vuol dire che ha snobbato l'europa league è evidente no un'altra cosa invece che ritorna a me vi ho detto sarri non è un allenatore di grande mentalità e questa volta abbiamo di nuovo la dimostrazione due volte di fila contro la lazio una finale persa quindi sminuiamo quell'europa league vinta dovutamente perché non ha affrontato ha affrontato il nudo a mescato con nenti ma verremo a ronaldo non vi preoccupate ora veniamo a ronaldo se possiamo venire non so se ci avevo ancora qualcosa da dire a parte di fare veramente i complimenti alla lazio e tutte le tematiche che già credo ho affrontato in questo video veniamo a cristiano ronaldo ora arrivano i messiani a scrivere però cari amici miei non l'avete vinta con me perché un grande campione non può vincerle tutte non può vincerle tutte quindi la sconfitta ogni tanto ci sta e credo che ronaldo le sue finali le abbia tutte sommate o tutto sommato vinte non dobbiamo di certo discutere qua di una qualità di un grande campione ora che mi vorreste dire che ronaldo è una pippa che ronaldo non rientra tra i grandi della storia vorreste dire questo se vorreste dire questo significa che siete degli incompetenti io vi stuzzico con messi perché messi lo esaltate il più del dovuto e gli date troppa gli attribuito un titolo che non è suo ok ronaldo oggi non ha fatto un granché ma ricordiamoci che ronaldo ha 35 anni e come vi ho sempre detto voglio vedere messi fra due anni e quattro mesi giocare in un altro campionato con una squadra che gioca un calcio diverso dal barcellona avete il ragionamento quindi è inutile che scrivi già prima di ascoltarti il video i commenti si devono fare quando finisci di ascoltare un video per intero grande lazio attuale complimenti alla lazio bisogna fare il chapeau a questa lazio che non ha bisogno dei gol di immobile che ha un gioco corale che ha dei grandi giocatori che fanno un calcio offensivo vedete che leo c'ha sempre ragione su sarri su immobile su ronaldo c'ho ragione ragazzi fidatevi ha perso una partita che alla fine una supercoppa italiana non è chissà che però è sempre un trofeo ha perso non è che si può vincere sempre però quando messi fallisce perché non scrivete lì voi scrivete quando si tratta di ronaldo scrivete quando si tratta di messi che ci sta fa parte del gioco ma quando fallisci sempre messi le sue finali di coppa america le ha fallite tutte non ha fallito una volta le ha fallite tutte rifletti rifletti su questo punto va bene ragazzi grande lazio complimenti e ci vediamo non lo so magari farò ancora un video per natale per questo video è tutto ci ho sempre ragione io perché rifletti bene quello che ho detto che grande competente che sono eh coach alano lo ve l'ho sempre detto che è una gran pippa certo tutto il milan fa cagare però sappiamo che ricordo che tanti credevano questo è un grande campione annunciato da prima su rebic ragazzi se cazzo se non lo fai giocare fai giocare rebic se non lo fai giocare che deve fare io vi dico che è un grande giocatore meglio di perisic perisic non è che sta facendo un gran che comunque e altre tante tante altre cose sono rimango sono e rimango ero e sarò sempre un competente di calcio rifletti 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 ciao